Al parrocchiale Santa Barbara di Branca di Gubbio arriva il Ponte Valleceppi, Fontanelle Branca in maglia rosso gialla, cerca di riprendersi subito la vittoria dopo lo stop di soccorso di Magione. La prima occasione abbastanza clamorosa al diciottesimo per Gaggiotti che però fa finire la palla sul fondo e l'altro Gaggiotti che va a mettere in mezzo un pallone sul quale al ventiduesimo non arriva Bellucci alla deviazione. Ancora i padroni di casa particolarmente attivi in questo momento con Gaggiotti che infila il pallone in rete, molto bravo a girarsi subito da grande centravanti e al ventitresimo il Fontanelle passa in vantaggio. Attende il Ponte Valleceppi ma arriva la risposta con questa conclusione da fuori sulla quale fa buona guarda il portiere Fiorucci in tuffo. Break della formazione di casa, 36esimo ancora Gaggiotti che potrebbe essere pronto per la doppietta, va a contatto col portiere, arriva il direttore di gara, ci sono tante proteste, non si capisce bene che cosa succede. È fuori gioco e quindi non è calcio di rigore e sfuma l'opportunità del raddoppio per il padrone di casa. 30 secondi nel secondo tempo, occasione per gli ospiti quando il Ponte Valleceppi riparte, in pratica dopo la battuta del centrocampo, tutto molto veloce. C'è la palla giocata dal neoentrato Marri che mette in mezzo, clamorosa opportunità da gol per Regnicoli che spara, stavolta altro dopo la scorpacciata di reti di una settimana fa. E manda a lato anche Gaggiotti una buona opportunità con Guerri che appareva battuto. Ancora i padroni di casa pericolosi con la premiata ditta Gaggiotti, alla fine il tiro alto di Gaggiotti sopra alla traversa. L'occasione per il Ponte Valleceppi, 31esimo tiro para in due tempi il portiere Fiorucci. 33esimo arriva il pareggio per il Ponte Valleceppi, la palla messa in aria, Urbanelli tenta un primo tiro, la palla rimane lì. E di destro Urbanelli fa secco il portiere anche in maniera un po' polemica. Il trentottesimo, palla in aria ancora Gaggiotti, opportunità conquista però solo un calcio d'angolo, 42esimo. Palla in aria, occasionissima per il noventato Montanari che non riesce però a deviare in rete. L'ultima opportunità nel recupero del Ponte Valleceppi, ma Marri si fa fermare dal portiere Fiorucci. Sì, nel primo tempo siamo stati un po' contratti, eravamo molto bassi, eravamo scollegati tra tre reparti e quindi il Fontanella ha meritato il primo tempo, però nel secondo tempo i ragazzi sono rientrati con grande intensità, hanno attaccato subito la porta avversaria, al primo secondo abbiamo avuto subito un'occasione, e penso che il pareggio sia più che giusto anche perché fino alla fine abbiamo provato a vincere la partita, quindi risultato giusto, ci prendiamo il punto in un campo difficile qui a Branca. Credo che alla fine il pareggio sia meritato anche se le occasioni le abbiamo avuto per chiuderla, però naturalmente quando hanno messo in campo anche Marri era difficile contrastarli anche perché noi con l'uscita di Bellucci si siamo abbassati molto.